Ristretto italiano, i media internazionali scrivono di noi. Non cominciamo però con la vigilia di voto, piuttosto con la notizia che era circolata che la Francia ci taglierà l'elettricità che compriamo da lei. Ebbene, la notizia di oggi è che la Francia nega i piani per tagliare l'elettricità all'Italia. La notizia in questo senso era stata diffusa da Bloomberg e da Repubblica ed è stata categoricamente smentita dalla EDF, la società elettrica francese. EDF che anzi ha riaffermato il principio di solidarietà con i vicini di casa, che poi siamo noi. Reuters riferisce che anche il Ministero per la Transizione Energetica parigino è intervenuto per smentire. In realtà si parlava di una potenziale interruzione per due anni, mica due giorni, per due anni. E l'elettricità che oggi l'Italia acquisisce dalla Francia rappresenta circa il 5% del nostro fabbisogno. E' smentito anche che ci fosse stato una sorta di preavviso lanciato in un qualche modo. Niente, loro dicono che non ci hanno nemmeno mai pensato. EDF, a quanto apprendiamo, è in una fase di completa rinazionalizzazione e le sue centrali hanno fatto scendere la produzione nucleare ai minimi da 30 anni, mettendo la Francia stessa in condizione di comprare energia all'estero. Cosa che in un qualche modo temo che vada a confermare invece quello che si diceva. Politica, elezioni, Italia insicura. Questa volta il titolo sulle elezioni di domenica prossima è della FAC, la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Anche se i governi italiani cambiano più spesso, leggono il sottotitolo, questa volta c'è molto in gioco. Data la loro breve durata, si riferisce ai governi italiani, Christian Schubert, che è l'autore, scrive che c'è la tentazione di non prendere la scadenza molto sul serio. Questa volta però, avverte, sarebbe un grave errore. Chi salirà al potere dovrà fare i conti con una recessione ormai cominciata, un aumento esorbitante dei prezzi dell'energia e un potere d'acquisto dei cittadini in caduta libera. In tempo di guerra devono essere prese decisioni rivoluzionarie, molti elettori, scrive ancora la FAC, sembrano ancora indecisi e la politica italiana è sempre buona per le sorprese. Ma i dubbi sulla vittoria di Giorgia Meloni sono davvero pochi, anche se all'interno della coalizione emergono giorno dopo giorno nuovi disaccordi. La Premiership di Giorgia Meloni avrà conseguenze per i Paesi Bassi? Se lo chiede, anzi lo chiede a un'esperta olandese di affari italiani, Ein Van Dagg, talk show della televisione pubblica olandese. E lei, Evelina Redmayer, risponde che sì. Le implicazioni per l'Unione Europea, essendo noi la terza economia dell'Eurozona, sicuramente ci saranno. Non sappiamo ancora come Meloni si posizionerà sulle regole fiscali di Bruxelles e non sappiamo nemmeno se la sua coalizione sarà stabile alla prova di governo, dice l'esperta. E poi occorrerà aspettare di vedere, dopo la determinazione di Draghi, che cosa Meloni vorrà fare sul fronte russi a Ucraina. Si fanno tante promesse, continua la Redmayer. Pensioni alte, tasse basse, soldi ai giovani. Ma la domanda è, da dove arriveranno questi soldi? Bruxelles ha dato tanto per fare fronte al post-pandemia, ma occorrerà ora vedere se questo denaro verrà realmente speso, secondo le indicazioni di Bruxelles, e che cosa nel caso Bruxelles vorrà fare. Gli italiani la voteranno numerosi, spiega ancora l'articolo, in quanto si propone come l'ultima candidata anti-establishment possibile, l'ultima che non abbiamo ancora vista all'opera. Brava oratrice, che si vanta di non essersi mai laureata, perché per quello, dice, non c'erano i soldi. E il gioco di identificazione è fatto. Dopo aver riprovati tutti, dicevamo Meloni è rimasta l'unica, come diceva la canzone, proviamo anche con lei, non si sa mai. Un sorriso, per concludere, con il sito israeliano Mako, che riprende la disavventura del futuro sposo, che già vestito da cerimonia, arriva, diciamo, al traguardo, a tutta velocità, su una moto da cross, con tanto di amica, che lo aspetta sul sagrato, sventolando la bandierina a scacchi. Ma il tizio in chiesa non ci arriverà mai, almeno per ora, nemmeno sul sagrato, in quanto l'ultimissima curva la prende molto male e termina sull'asfalto in modo tutt'altro che acrobatico, dobbiamo dirlo. E così, invece che l'altare, è arrivato al pronto soccorso con una clavicola rotta e un grosso taglio in testa. E visto che non aveva casco né altre protezioni, alla fine gli è anche andata molto bene. Il sito pubblica i due video che sono diventati entrambi virali in rete, al punto che li hanno pubblicati da Israele. Il video della caduta rovinosa, video che si ferma proprio nel momento in cui si intuisce che sta partendo un bestemmione davanti alla chiesa, tra l'altro, e l'altro al pronto soccorso, con la promessa sposa ancora in abito bianco. Nessun nome se non che è accaduto nel Parmense. Con questa vi saluto, vi aspetto domani, vi auguro una buona giornata, come sempre.